Un minuto a fritta Salve Ma che cazzo Non sto capendo più nulla Che cosa fai? Salve Salve Ma la vado a ritirare, aspetta qua Luana Sì, aspetto qui Io no? Ah, ciao Morea Ma questa che faccio? Sì Prego, mi seguo Vado a ritirare, Morea lei Luana è una mia nuova amica Piacere Luana Ciao Lei è la congiunta del signor Dino Come fugi? Dico è la congiunta del signor Dino, lei signorina Luana Siamo Siamo usciti oggi Ah Sì, oggi Ci siamo incontrati al garage centrale Vabbè, avete scelto un buon appartamento Dove essere sincero Eh, mi dispiace per Dino Perché? Grazie, è andato Eh, oh, finì Ficcatele il supermorettore Oh, Dio, ragazzi, è cascata Oh, ma c'è un po' di mio, no? Eh, sta ritirami, signor Vabbè, vabbè 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 Oddio Oddio No, no Sei incazzata, ragazzi Sei incazzata Oddio oddio Non posso Smetti di parlare Se vò vicino Ah, poi allora prendiamoci io Aspetta che hai prendo la cassa col comorato No, la cassa la prendo io Lei... le faccio vedere la casa e gli faccio vedere se ti piace L'hai conosciuta adesso... Chiama Scarlett muoviti Non aspetta, no ma me lo deve dire No, io mi sa che... A questo punto... Muore, adesso lo chiamo a me Ehi, andiamo Sì Scarlett Puoi anche aspettare tu Scarlett, Scarlett rispondi a telefono Scarlett Dai che mi rispondi, ah E vabbè, aspettate qua che vado a fare casa Andiamo Io vado via, ciao Dino C'è un luscio, è stato un piacere conoscerti Per me no Sono io, mi prego mi segui Come vado a cassa una casa di 30 mila dollari qua da FIBA Io ti vedevo più in una... che ne so... Al lago Le cose grosse Ma beh Un 10.000 in più ti cambio tanto Cioè? E qui costa 30.35 mila Eh? No 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 Non ce n'avevo la mia scheda ragazzi Ce n'avevo la mia addioca e questo non dice niente che cazzo che cazzo vero dentro con un 5.000 grazie partire le billette fatto una guarda millenia l'ho detto lei mi ha detto come questo noi e poi più che dopo video compro ma c'erano mi proponino ed è lì c'è un parcheggio prato piscine allo e dov'è c'è un lago dei tax perché ancora metto che non avevano messi l'altro no no lei capisce non lo so cosa ha capito cioè lei ha capito pure che quando la signorina non so cosa ha capito allora andiamo a vedere quell'altro si può andiamo certo che si può andiamo a coppa adesso fare agente immobiliare faccero io si lavoro più agente immobiliare quindi quelle a 40 quelle da 40 manca di più ci sono anche le più banane esageriamo no no rimaniamo sicurato io le l'ho consigliato 35 però c'è c'è un banquattri vicino sì 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 ma sono anche qua in ospedale un banquattro ma lì c'è di tu qua dai no che problema la tua macchina è dove c'è regà oddio c'è morea c'è cascata in pieno no perché sennò sgama che so io eh perché sì sennò sgama che sono io perché la camminata è quella che abbiamo scelto io e lei allora signorina rosa come ci mettono d'accordo aspettatemi qua ok aspettatemi qua guidi tanto mai sta andando a prendere la macchina si sta arrivando è andato a prendere il garage è nel parcheggio ora deve fare il giro e arriva qua mi chiama carlo morea che è che modo posso prendermi la cross bella mimi vieni qua raga oddio ritorna incazzatissima oddio è bellissimo perché poi l'hai vestita di rosa ho capito meglio è bellissimo è bellissimo e' un po' dalla moto perchè e' il ragazzo qua non so se mi ha detto che è impegnato impegnato felicemente anche ma non è vero mi ha detto che ci ha lasciato e' l'ha presa in giro guarda un po' eccomi qua ma che cazzo dice scusi adesso seguitemi no vi ho porto nella zona delle case sii ma niente di importante sei serio ma perchè che ti frega ti scusci vabbè non sono gelosa ma infatti e' la sua ragazza lo è molto sa? ma a me che me ne frega mica la conosco scusi vuole conoscerla? eh facciamo così un attimino problemi si 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 proprio e' no dammi un attimo il telefono il numero di telefono a riscarli oh mio dio eh giovane la macchina ho capito eh eh l'ho cancellato giovane scusi di no dai l'ho cancellato non ce l'ho visto io vado un momento in bagno scusate fa la tutta eh eh è una parola lo dice a me eh sì sì è una parola la decátione di averciazate l'ho di averciazato un po' ora sono fondi che Eh ma lei ha cambiato numero ragazzi Io non ce l'ho il numero di nuovo di Morea Quindi devo dire chi è Pronto? Dove sei? Eh sono a nord ma... Come andiamo? Morea giusto ma che hai cambiato numero? Sì ho cambiato numero Oh e ma... Ascolta qua all'ospedale c'è Dino con un'altra Ma che cazzo dici? Cioè io lo sto cercando qua su Mi autorizzi a prenderlo a pugni? A chi? Eh sia Dino che quell'altra sciacquetta che si sta portando appresso No 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 Fagli una foto che voglio avere le prove A tutte e due insieme E poi... E poi me la vedo io dopo Ma che prove di che stanno qua tutte e due Su una cazzo di motorosa Devono prendere casa Ma stiamo scherzando? Eh tu faglielo una bella foto mentre stanno insieme Che poi dopo me la vedo io dopo Non ti preoccupa Eh va bene d'accordo Grazie mille Morea Veramente Grazie 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 Gli dico cucciolotto mio Aspetta Confettino mio che cosa ti è successo? Confettino mio è il cazzo Stai lontano da lui Mamma mia come sei acida Esatto Confettino andiamo? Sparisci Che vuoi scusami? Ma che sei tu la sua ragazza? Assolutamente no ma sono un'amica della sua ragazza Quindi sparisci No no che lavorerà Non c'è clientela È diverso Confettino da che andiamo per favore Allora facciamoci fare la moto La cosa è che mi è minato Ringrazio che mi si sono bloccati i muscoli E non posso picchiarti Alza le mani a bassare Mi piace che mi puoi picchiare Eh non va Eh si tiralo No 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 Ciao bella Ciao ciao E tira fuori un'arma No 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 Eh si devi tirare fuori un'arma e rimettela in tasca Andiamo via Confettino dai Aspetta Ho voglia di fare l'amore con te Ma Sì devi tirare fuori un'arma e rimettela in tasca Se no non si sblocca Ti fa una foto così alle prove Ciao Ora sono cazzi tuoi Scarlet sta bene e ti sta cercando Vergognati per quello che stai facendo C'è un'arma e pancia dicami Lasci wie No no neanche Virla Mi seguo al di atto Eh 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 La seguo se non va Ma Confettino Oh, ma dove è? Oh, madonna, c'è una macchina che mi entrava dentro Non hai capito che sono andata via? Sono andata dentro, sono andata in bagno Noi ho capito, mi cazzo è uscito Perché sapevo che mi avrebbe chiamata E praticamente mi ha telefonato Mi faccio messo tanto a dare il numero Perché così faccio il tempo a fare Eh, ma mi ha dato Praticamente mi ha telefonato e mi fa Scarlett, dove sei? Ho detto, sono a Nord Sto cercando Dino Mi fa Eh, ma Scarlett è qui in ospedale Con una schifosa motorosa Sbrigati a venire qui Non lo so, mi autorizzi a picchiarli A tutti e due Una cosa assurda Guarda che l'equilibrista che sono Diciamo che questa è già la zona, no? Cioè, no, non parcheggiarla, dico Tutte le basse Quindi qua è già fritto di un garage, un parcheggio Ok E il banco Mattelli, se ti interessa La, la, la Ok, va bene Allora, questo è l'acqua Prego, mi seguo Allora, questa è una bella zona Già piena di casa No, villette Ah, anche Il giardino qua Sì, sì Il laghetto Può pescare Tranquil che Non ci sono permessi Che lo vede Quindi può fare Può fare picnick Zona Già piena di casa Vi immaginate Carlo Pensate se Luana gli dice che vuole vedere se il calore è possibile di vita La valuta La valuta, no? Vedi col pezzo Quanto era? 40 Ah beh, ce ne sono abbastate Ce ne sono molte Non è che costano Ma una valuta Che cazzo Che ne frega Ok, non è prego 40.000 dollari Vediamo questo For sale Cioè, devo portare il sale Allora, questa è la numero Aspetti che controllo sulla mia agenda Oddio Regà Allora, metto la password Vedo sul GPS casa Numero, numero, numero No, ma il bello è che se lo dice a Ettore Ettore lo sa che Luana è Scarlett Come lo salvo Eccolo, numero, numero, numero Grazie